ben ritrovati di nuovo su review you oggi vado a recensire insieme a voi questo telo per la palestra per lo sport marca leone acquistato su amazon a 7 euro vi lascio il link in descrizione qui sotto io ho trovato l'offerta visto che c'erano i prime dei comunque 9 euro è un prezzo davvero ottimo se si pensa che questo asciugamano che adesso vi andrò a mostrare è interamente in cotone allora arriva l'interno di questa confezione io ho acquistati due visto che quando magari uno è a lavar c'è l'altro il colore solo nero qua abbiamo le etichette quindi un marchio made in italy abbiamo tutte le indicazioni si può lavare tranquillamente in lavatrice lavaggio a 30 oppure a mano qua c'è una parte diciamo grigia bianca e il retro invece è anche bello da vedere perché riporta le scritte in bianco abbiamo anche il retro e scritte in bianco quindi si può usare secondo me anche in questo modo le dimensioni sono di 100 x 40 centimetri come vedete appoggiandolo su una panchetta della palestra copre tutto lo schienale quindi è veramente adatto per l'utilizzo in palestra link e descrizione del prodotto ci vediamo la prossima review